Come gli americani hanno imparato dolorosamente nel corso dell'ultimo secolo della Terra, la libera circolazione delle informazioni è l'unica salvaguardia contro la tirannia. I popoli un tempo incatenati, i cui governanti hanno infine perso il loro controllo sul flusso di informazioni, hanno presto un'esplosione di libertà e vitalità, ma la nazione libera che gradualmente impone il suo controllo sul discorso pubblico ha cominciato a scivolare rapidamente verso il dispotismo. Attenti a chi vi rifiuta l'accesso alle informazioni, perché nel suo cuore sogna già di essere il vostro padrone. Commissario Pravin Lall, dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite.